Ciao ragazzi e benvenuti su MyFootballJersey, io sono Stefano e oggi non vi presenterò una maglia ma bensì un paio di scarpe, le Nike Air Jordan 1i. La confezione è molto curata, all'interno vi ha questa doppia velina, quella bianca e quella rosa personalizzata per i modelli di Travis Scott. Le scarpe devo dire che appaiono veramente ben fatte, curate in ogni particolare, senza sbavature, con tutti i dettagli al posto giusto, che poi andremo ad illustrare nel proseguo del video. Come dicevo la confezione è molto curata e all'interno oltre ai laccetti neri che vedete sulla scarpa vengono forniti quattro cotti di laccetti aggiuntivi che permettono di personalizzare ulteriormente le scarpe. Una cosa che ci fa capire quanto la scarpa sia curata è ad esempio la presenza del logo Jordan anche sulla forma di cartone che è all'interno delle scarpe. Come si conviene per il modello Travis Scott il baffo è da un lato invertito. All'inizio può sembrare un errore ma in realtà è proprio la particolarità di questi modelli. Dietro c'è la faccina tipica appunto del cattante. All'interno le due solette portano un logo diverso tra sinistra e destra. All'interno della linguetta vi è sempre una scritta tipica del modello Travis Scott. All'interno delle scarpe troviamo tutte le etichette con QR code di Nike. La suola è di color panna. Allora cosa ne pensate? secondo me sono molto belle e peraltro di un'ottima manifattura e credo proprio che un paio me lo regalerò per Natale. Vi ricordo peraltro che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterle acquistare. Ora prima di lasciarvi se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. Per oggi è tutto alla prossima ciao 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 ciao